Rettore, oggi un nuovo laboratorio nasce qui all'Università degli Studi di Salerno, una collaborazione tra il CUS e la Commissione di Disabilità. Sì, noi abbiamo il nostro patrimonio che sono i nostri 40.000 studenti. Ovviamente un po' come un padre con i figli non fa differenze tra i propri studenti, però è chiaro che di questi 40.000 abbiamo 300 studenti che hanno diversi tipi di disabilità. È ad essi che noi dobbiamo prestare particolare attenzione. Lo fa egregiamente il nostro ufficio diritto allo studio, lo facciamo con un delegato, la professoressa Savarese, sempre impegnato su questi temi a sostegno delle loro attività. Lo facciamo come Ateneo prevedendo e realizzando una serie di investimenti strutturali che ci consentiranno nel breve volge di qualche tempo di avere un campus che anche da questo punto di vista dell'accessibilità dei luoghi sarà un campus totalmente all'avanguardia nel Paese e in Europa. Il rapporto con lo sport del nostro università che è a struttura campus è un rapporto privilegiato, lo è per tutti i nostri studenti, lo è in generale per tutta la nostra comunità. Se noi abbiamo avuto questi successi, anche per chi abbiamo sempre puntato sullo sport come momento di aggregazione e da qualche anno, da quando sono rettore anche come disciplina scientifica, se è vero, come è vero che abbiamo lanciato il secondo corso di scienze motoriche presente in Campania, un corso di grande successo a testimonianza, che poi è una cosa della pratica sportiva, è una cosa pratica sportiva accompagnata dalla ricerca scientifica su due mondi completamente diversi. Quindi disabilità sport e il consiglio di amministrazione che ha destinato nella scorsa l'ultima consigliatura un contributo per favorire questo lancio di questo corso che è totalmente gratuito per 15 studenti disabili, ma è chiaramente che è aperto a tutti gli studenti in maniera tale che attraverso anche l'inclusività ci possa essere una osmosi e quindi un confronto tra i diversi studenti e quindi realizzare una vera e propria inclusività. Stiamo parlando di un'attività che è diretta non soltanto agli studenti con disabilità, in realtà per loro sarà gratuito perché sarà finanziato dalla Commissione di disabilità e quindi dall'Ateneo, ma è un'attività diretta ovviamente a tutti nell'ottica dell'inclusione che passa appunto per tutte le diversità e le specialità che sono insite in ciascuna persona. Si tratta di un laboratorio al quale in realtà pensavo da tempo. Utilizza una nuova modalità di approccio che anche in psicoterapia si usa, che è la mindfulness, che riprende un po' anche dallo yoga, dalle pratiche di rilassamento. Accanto a questo noi associeremo delle altre pratiche sia di attività motorio-sportive, per questo c'è la collaborazione con il CUS, sia attività di training emotivi. In generale quello che si prevede è un'attivazione della resilienza e del coping rispetto ad una serie di problematiche che appunto ognuno può portarsi e che magari si legano di più ad alcuni bisogni educativi speciali come quelli della disabilità.